E dopo l'apertura insieme al gruppo generali proseguiamo e apriamo insieme al primo ospite di questa sessione dedicata a capire insieme come si è evoluto il mercato della protection negli ultimi dieci anni e abbiamo già pronto qui con noi Alberto Vacca, Head of Life and Health di Allianz in Italia. Alberto benvenuto anche a questa edizione, grazie che sei sempre molto disponibile a portare il vostro punto di vista. Sono ormai dieci anni che praticamente parliamo di protection. Ecco, secondo te, visto che oggi rappresenti una compagnia che insomma da sempre spinge su questo settore sulla protection e sulla salute. Cosa significa oggi Allianz in questo ambito? Che cosa ci puoi raccontare? Quale novità rispetto allo scorso anno? Ma io innanzitutto vorrei dire quello che è l'importanza di questo business per il gruppo Allianz a livello mondiale perché il mondo della protezione, quindi protezione di vita e salute è per Allianz estremamente importante, tanto che a conto economico nel 2022 valeva più di un miliardo e cento di operating profit, quindi stiamo parlando veramente di una linea di business di grandissima importanza per il gruppo. E questo ha fatto sempre sì che ci sia stato un grande focus per la crescita, tanto che sia a livello vita che a livello salute sono sempre state messe in campo delle azioni coordinate a livello dei singoli paesi proprio per continuare a spingere su questa crescita e a sfruttare i punti di forza che il gruppo aveva. Ad esempio sul vita dal 2021 ci sono dei gruppi di lavoro che coinvolgono tutti i paesi in cui si cercano di condividere le best practice per poterle poi incorporare. Quindi dagli Stati Uniti all'Asia sostanzialmente. Sì, ci incontriamo proprio per condividere queste best practice e per poi calarle nelle realtà specifiche dei singoli mercati e questo lo stiamo facendo anche sul salute dove abbiamo la Germania che è assolutamente preponderante come linea di business perché loro hanno più di 4 miliardi di premi. Sappiamo che il mondo salute in Germania è estremamente sviluppato ed è stata creata un centro d'eccellenza che è Alliance Digital Health che fa in modo proprio che la technical excellence diventi practice di tutti i mercati perché si sa che il mondo salute è un mondo estremamente interessante dove le esigenze di protezione possono portare anche a far scrivere tanti premi ma poi la parte più importante è fare in modo che questo business sia anche profittevole e questo richiede una grande capacità a livello tecnico che è quella che il gruppo cerca di trasferire poi a tutte le riga l'entity ed è questa diciamo un'attività a cui io partecipo con grande piacere. Sicuramente il business salute non è un business per tutti, infatti sono sempre state le compagnie specializzate tradizionalmente. E noi in Italia cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di assecondare la crescita del mercato che c'è forte sia sul vita che sul salute cercando di farlo in modo profittevole che questo è sempre stato una cosa in cui ho creduto ed è una cosa in cui sono completamente allineato rispetto ai valori del gruppo in cui sono approdato. Bene, grazie per questo contributo. Vorrei chiedertemi un'altra domanda a livello di Paese Italia. Secondo voi che tipo di opportunità oggi gli italiani e il nostro contesto socio-economico offre a una compagnia come Allianz ma in generale agli assicuratori sempre in ambito protection e salute? Noi siamo in un mercato che secondo me è estremamente interessante perché è un mercato che se guardiamo per esempio la protezione di vita il new business puro rischio è cresciuto del 17% contro una crescita dell'anno precedente del 10% quindi era già una crescita forte che è andata in ulteriore accelerazione. Se guardo poi il new business malattia è cresciuto del 13% contro il 5,5% dell'anno precedente quindi addirittura quasi triplicando la crescita. Quindi la traiettoria di crescita è chiarissima ed è un'ulteriore accelerazione. Quello che secondo me sta cambiando, complice forse anche la pandemia e la percezione dell'esigenza di protezione. Se ci ricordiamo noi in questi dieci anni abbiamo sempre parlato di quali erano le potenzialità di crescita sia della protezione di vita che del salute ed eravamo sempre rimasti un po' delusi perché alla fine era un mercato dove complici bias culturali o pregiudizi anche di natura economica questo mercato non cresceva più di tanto. Gli italiani non si volevano assicurare. Gli italiani si autoassicuravano col risparmio e comunque facevano leva sul servizio sanitario nazionale nel mondo del salute. Ad oggi invece la percezione è cambiata e come facciamo a vedere che la percezione è cambiata? Ad esempio se prendiamo l'ultimo rapporto Censis del 2022 dove andiamo a vedere quali sono le principali insicurezze degli italiani vediamo che il 53% degli italiani teme la mancata autosufficienza e l'imbaridità e questa è la prima paura in assoluto degli italiani. La terza, la seconda sono i furti e i reati vari, la terza è quella della paura di perdere il sostegno economico che deriva dal capofamiglia, quindi il rischio di premorienza del capofamiglia. Quindi si capisce come gli italiani lo stanno cominciando a percepire. E' più consapevolezza del rischio. Sì, tra l'altro questa terza è il 50,5% degli italiani che si sente insicuro su questo. Quindi questo sta cambiando e sta dando, secondo me... Quindi da una mano all'assicurazione. Sì, quella crescita di cui parlavamo prima, il 17%, poi il 10% l'anno scorso è spinta da questa nuova percezione di questi rischi. Quindi sicuramente, insomma, quello che tu dici, l'Italia non sarà più un fanalino di coda quando diciamo... Sulla protezione di vita, no, ma se si guarda anche sul salute, un'altra cosa estremamente interessante è stata quella che... C'è un'indagine conoscitiva dell'IVAS che è stata presentata in un'audizione al Senato a metà febbraio 2023 che fa vedere come la spesa sanitaria intermediata sia cresciuta molto di più della spesa out of pocket. Stiamo parlando nel triennio 2018-2021 del 2,5% contro lo 0,7%. Quindi stiamo parlando del triplo, anche se su numeri non troppo grandi. Però la cosa ancora più interessante è che il 2,5% è composto dal 6,5% di crescita delle polizze individuali contro fondi e casse che crescono del 4,2% e altre collettive dello 0,8%. Questo è importante, per cui quello che tu stai dicendo vuol dire che oggi esiste anche un mercato importante delle polizze individuali quando tradizionalmente salute erano prevalentemente polizze collettive. In fatto stanno trainando la crescita, probabilmente anche complice alla pandemia, dove chiaramente ci sono stati, secondo me, di fortissimi cambi di percezione su questo. Sicuramente, certo, gli italiani hanno scoperto di non essere protetti. Sì, anche l'accessibilità al sistema sanitario nazionale, che è stata molto complicata durante la pandemia, ha creato, secondo me, questa necessità di avere la polizia individuale che non è più quindi percepita come un lusso, ma come un'esigenza sempre più forte. Quindi questo dato di crescita, secondo me, lascia ben sperare anche per la crescita nel medio termine del salute, come del vita, della protezione vita. Sono entrambi mercati, secondo me, estremamente interessanti. E quali sono le ambizioni di Allianz guardando al futuro? Insomma, il mercato mi sembra che comunque giochi a vostro favore. Ma tu sai, sono entrato in Allianz all'inizio dell'anno scorso e mi sono trovato in questo mondo, come dicevamo prima, un gruppo fortissimo già sul mondo della protezione e della salute e in un mercato che era in crescita e che addirittura ha accelerato. E quindi, chiaramente, la macchina già era perfettamente funzionante, andava bene, ma io ho cercato appunto di intervenire con degli interventi mirati che accelerassero questa crescita. Quindi la prima cosa che ho fatto nel mondo della protezione è stata quella di rifare il prodotto della TCM individuale, che noi chiamiamo Lovia, internamente. Un prodotto che era dedicato al canale degli agenti, che abbiamo reso più competitivo lato cliente, molto più competitivo lato cliente e anche più competitivo lato intermediario, perché secondo me il successo di un prodotto è sempre la combinazione. Abbiamo fatto molto più mirato ai clienti, perché prima non era differenziato tra fumatori e non fumatori. Abbiamo cambiato anche qual era la soglia di capitale che poi richiedeva la visita medica, la soglia di capitale assicurato. Abbiamo posizionato il prodotto nel primo quartile a livello di attrattività di cliente, quindi in termini di pricing. Poi abbiamo fatto degli schemi provvigionali molto più mirati, che tendevano ad allineare gli interessi della compagnia con quelli degli intermediari. Quindi se gli interessi del cliente, della compagnia e degli intermediari sono allineati, secondo me il successo è assicurato. Questo è sempre quello in cui ho creduto e effettivamente in questo caso abbiamo ottenuto poi una crescita dall'introduzione, che è stata alla fine dell'anno poi un multiplo di quella del mercato nello stesso canale. Per quanto riguarda invece il mondo corporate, sempre delle protection vita, lì eravamo forti, abbiamo continuato a crescere con delle trattative mirate sul mondo corporate, che include anche quello delle multinazionali. Per quanto riguarda invece il salute, lì potevamo fare affidamento nel mondo retail su un prodotto che era molto competitivo e infatti ci ha assicurato anche in questo caso una crescita molto superiore a quella del mercato e quindi abbiamo, diciamo, assecondato la crescita di questo prodotto che è comunque una crescita profittevole e però abbiamo anche guardato al mondo corporate dove la crescita profittevole è molto più complicata e abbiamo fatto una serie di interventi che hanno fatto in modo che il 2022 sia stato alla fine l'anno del ritorno alla profittabilità di questo segmento che era appesantito dalla parte corporate e quindi abbiamo combinato finalmente la crescita top line con quella bottom line che è quello che ho sempre ritenuto la cosa più importante. Inutile crescere come premise e poi si perdono soldi, bisogna fare entrambi. Pro futuro invece cosa stiamo facendo? Stiamo praticamente innanzitutto estendendo la novità di prodotto sulla TCM individuale anche ad altri canali quindi stiamo andando adesso nel mondo di consulenti finanziari un mondo che ha i nostri consulenti quelle di Alliance Bank che sono delle vere e proprie macchine da guerra nel mondo investimenti e quindi adesso la sfida è di proporre a questi clienti delle soluzioni di protezione e non delle soluzioni di investimento a cui sono ovviamente molto più abituati ma questa è una sfida a cui ho sempre creduto anche nel mio passato e sono contento di poter fare leva su un canale che è formidabile come quello di Alliance Bank proprio per dimostrare il potenziale di crescita che ha questo canale e quindi questo segmento di clienti che è collegato a questo canale. Poi interverremo anche sulla long term care perché come ho detto è la prima esigenza che sentono gli italiani di protezione e quindi anche lì renderemo il prodotto ancora più competitivo per poter crescere di più in questo mondo in cui ho sempre creduto e last but not least stiamo aggiungendo poi alla TCM individuale un'altra copertura che è quella che riguarda l'inabilità permanente a esercitare la propria professione. Questa è una novità rispetto a tutto il resto del mercato è un prodotto estremamente innovativo dedicato agli imprenditori al PMI ai professionisti tutti quelli che appunto possono avere un problema che non determina ovviamente la morte o l'invalidità ma determina comunque l'inabilità a esercitare la propria professione che secondo noi è un'esigenza di protezione importante che deve essere coperta. Questo nel mondo vita nel mondo salute il nostro focus è continuare nella crescita profittevole che ti ho detto prima sul retail ci sono dei piccoli interventi correttivi da fare perché comunque quando si cresce in modo così impetuoso comunque bisogna bisogna guidare la crescita ma lì siamo estremamente fiduciosi che questo continui sul corporate l'attenzione selettiva alla crescita nel selezionare i business che siano veramente profittevoli è chiaramente sempre una sfida E lì un altro mercato sono altre logiche Sono altre logiche ma il mercato secondo me sta cambiando molti player si sono leccati le ferite negli ultimi anni ma noi non vogliamo crescere a prescindere cresciamo soltanto in modo molto selettivo su ticket medio piccoli più che su ticket grandi proprio dove crediamo che ci sia i margini di profittabilità perché non ci interessa assolutamente una crescita top line ma solo una crescita profittevole chiaro che il mondo corporate ti dà le opportunità di scala che sono importanti anche per essere efficienti lato costi però comunque i margini devono esserci devono essere positivi anche della valutazione standard on del business altrimenti noi non operiamo qui sul mondo salute secondo me la cosa importante sulla parte delle polizie individuali è quella di fare in modo che il post vendita funzioni bene beh Alberto credo che il customer journey sia comunque fondamentale perché almeno come base anche la mia esperienza di utente di polizie assicurative spesso la compagnia ti copre la prestazione ma non si interessa del dopo di sapere come stai o come non stai cioè pagano e basta ecco ma secondo me fondamentale il customer journey dal momento della presa in carico del cliente fino alla fine che deve essere deve dare al cliente la percezione di valore di quello che ha comprato ed è su quello che noi siamo estremamente focalizzati per fare in modo che sia un customer journey che lascia un'esperienza positiva c'è da dire che un business il cui post vendita è molto più complicato di molti altri business e quindi questo rende la gestione del post vendita più complessa ed è proprio per questo che è lì che pensiamo si possa fare la differenza per poter continuare a crescere nel futuro e questo ce lo auguriamo dai ce lo auguriamo da tutti anche perché sarà un grande ruolo che veramente le compagnie potranno rivestire grazie grazie Alberto per la tua partecipazione anche a questa edizione grazie a te e arrivederci presto